Un'occasione per celebrare la festa della musica ma anche per salutare con qualche giorno d'anticipo L'inizio dell'estate, stagione che vedrà impegnata l'Associazione Cenacolo dei Poeti in tanti eventi. Il primo è stato proprio il concerto del duo jazz Aldo e Nick, ospitato sabato scorso nella Galleria De Vanna. Particolare il genere seguito alla chitarra da Niccolò Fanelli e al flauto da Aldo di Caterino. Vi faremo ascoltare brani originali e brani tipici della sonorità bossa nuova. Un repertorio che i due maestri eseguono da ormai un decennio. La nostra collaborazione nata addirittura fra i banchi di scuola ci ha portato oggi a conservare una forte affinità e ci capiamo al volo quando suoniamo. L'evento, dedicato alla memoria di Mino De Vanna, è stato organizzato dal presidente Nicola Bondanza grazie anche alla collaborazione della Galleria, diretta dall'architetto Claudia Calabria. Abbiamo voluto ospitare questo evento sia per dare un segno proprio della partecipazione a un evento, insomma alla festa della musica che comunque è patrocinata e promossa proprio dal Ministero della Cultura e anche per dare un'occasione in più di fare un passaggio all'interno della Galleria e quindi magari anche per chi non conoscesse il nostro museo di poter entrare in qualche modo, di essere coinvolto attraverso questo piccolo evento e avere un'occasione insomma per poter poi magari tornare e ritornare anche a visitarci. Ringrazio la Galleria De Vanna con la quale abbiamo una lunga collaborazione, già dai tempi della dottoressa Barbone che approfitto e saluto e ringrazio. Ci muoviamo sempre da sempre nel solco della collaborazione tra pubblico e privato, anche con il comune di Bitonto. Infatti stiamo preparando il bando estivo, un lascito dell'assessore Mangini, persona illuminata e innovativa che lascia un grande lascito alla comunità di Bitonto. Presente in prima fila anche il neo eletto sindaco Francesco Paolo Ricci. La manifestazione di questa sera è un ottimo esempio di una collaborazione pubblico-privata, da un lato appunto l'associazione e Nicola Abbondanza, dall'altro lato la galleria. Credo che questa sia la soluzione vincente per tornare a far vivere dopo un periodo pandemico tutti questi contenitori culturali, questo nostro patrimonio culturale che è immenso e va valorizzato a 360 gradi. Il comune ce la metterà tutta, farà la sua parte, ne sono convinto e quindi questo è il senso. Collaboriamo insieme e insieme si possono fare tante cose per la nostra comunità, per la comunità di Bitonto, Palombaio e Mariotto.